Con un'offerta che balza da 3.000 a 20.000 posti nel triennio 2014-2016, il Sistema Nazionale di Accoglienza Integrata per i Richiedenti Asilio e Rifugiati registra un decisivo passo avanti. Da dieci anni il Comune di Napoli, d'intesa con l'Associazione LES, è partner del Ministero dell'Interno nella realizzazione del progetto IARA e si impegna, oltre a garantire vitto e alloggio, a portare avanti un percorso graduale di accompagnamento e assistenza che culmina con l'inserimento nel mercato del lavoro. Rifugiati, richiedenti asilo e titolari di protezione umanitaria sono i beneficiari del programma di integrazione che si rinnova per il prossimo triennio rafforzando le politiche di accoglienza. Il tempo di accoglienza varia da sei mesi ad un anno e all'interno di quel periodo noi provvediamo e da un punto di vista burocratico rispetto al loro status e da un punto di vista di inserimento, lavorando immediatamente sull'apprendimento della lingua o rafforzamento della lingua e poi su vari interventi di inserimento socio e lavorativo. Napoli è una città aperta, spesso ce lo diciamo, deve diventare, e anche questo lo dico spesso, una città realmente accogliente. Quindi una serie di attività integrate che vedono le istituzioni lavorare insieme concretamente, assiduamente, con continuità, ma anche un terzo settore, un associazionismo e credo anche una società che risponda in maniera anche più attiva e partecipata alle attività appunto di accoglienza. La presentazione delle attività del progetto Iara è stata anche occasione per lanciare la campagna di raccolta fondi con l'accoglienza Vinciamo Tutti, finalizzata al recupero di una moderna struttura destinata ad ospitare 30 persone. Abbiamo diverse strutture, da maggio ne avremo fondamentalmente tre, Opera Don Calabria che è l'istituto che è a Via Foria dei Calabriani, ci ospita per 18 posti, Via Ponte Nuovo che è il centro che stiamo ristrutturando ne accoglierà 30 e poi abbiamo un appartamento per le donne nel quartiere di Pianura.